Buongiorno a tutti, sono Antonio Talarico, Presidente dell'ASD Revolution Team Pesca Sub Apnea di La Mezzia Terme. Oggi ci troviamo a Tropea dove abbiamo organizzato il campionato italiano per società di pesca in Apnea. Diverse sono state le società che sono arrivate da quasi tutte le parti d'Italia. La squadra più lontana arriva da Rapallo e un'altra squadra da Grosseto. La gara si è disputata lungo il litorale tirrenico che va da Tropea fino alle zone di Ioppolo. Sono usciti diversi carnieri con molto pesce bianco, pesce che è molto molto presente qui in questo tratto di costa. Durante la manifestazione abbiamo anche raccolto rifiuti presenti in mare, plastica, bottiglie e quant'altro. Questo qui sta a dimostrare che chi fa pesca sub apnea ama anche il mare e ama anche l'ecosistema marino. Speriamo di poter tornare qui a Tropea il prossimo anno grazie al Comune, grazie al Sindaco Giovanni Macri. Ringrazio anche l'amministrazione del porto di Tropea, l'avvocato di Salvo. Speriamo di rivederci presto. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.